Buongiorno a tutti dalla Tg regionale per sordi. Le donne sono stati accoltellati questa mattina intorno alle 8.30 a Firenze nella zona di Viale Petrarca. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stavano passeggiando in strada con il loro cane quando un uomo li ha aggrediti colpendoli con un coltello per poi darsi alla fuga. La donna, 39 anni, italiana, è stata trasportata in ospedale a Torregalli in grave condizioni e sottoposta a intervento chirurgico. Le condizioni dell'altro ferito invece non destano particolare preoccupazione. L'uomo, 54 anni, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio. A bloccarlo sulla base di una ricerca diramata dalla polizia che era intervenuta sul posto è stata una pattuglia dei carabinieri che lo ha rintracciato in piazza Tasso. Intervento dei vigili del fuoco la notte scorsa, poco prima delle 3.30, a Pontassieve, alle porte di Firenze, per il crollo di un muro di contenimento in via della Resistenza. Hanno ceduto le pietre di rivestimento del muro realizzato in cemento armato per circa 40 metri, finite poi sul parcheggio sottostante. Otto le auto posteggiate che sono state travolte. I vigili del fuoco non segnalano danni a persone. Gli stessi vigili, dopo un sopralluogo, hanno disposto che l'area venisse transennata per circa 150 metri. Sul posto anche i carabinieri. È finanziamento illecito ai partiti. L'ipotesi di reato per la quale la Procura di Firenze ha indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open, l'imprenditore Marco Carrai, amico personale di Matteo Renzi, è già membro del Consiglio di Amministrazione della stessa Open. Ieri la Guardia di Finanza ha perquisito, su ordine della Procura Fiorentina, l'ufficio di Carrai, notificandoli anche un avviso di garanzia. Carrai ha dichiarato a fiducia che la magistratura chiarirà presto la mia posizione so di non aver commesso reati e di aver sempre svolto i miei compiti rispettando la legge. Avrebbero trasferito in patria i guadagni della loro attività di prostituzione, quantificati in 300 mila euro circa, utilizzando un'agenzia di money transfer del centro di Prato e nomi fittizi per le operazioni, così da eludere la normativa anti-riciclaggio. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Prato che ha denunciato i due titolari dell'agenzia, marito e moglie, e in particolare ad operare sarebbero stati cittadini brasiliani dediti alla prostituzione tra Prato e Firenze. In Italia, con visto turistico, impossibilitati pertanto ad aprire un conto corrente in banca. Un centro per il paesaggio con sede nella Villa Medicea di Careggi sarà costituito a Firenze per volontà della Regione Toscana. Ad annunciarlo, la vicepresidente della Toscana e Assessore alla Cultura, Monica Barni, in occasione della conferenza che si è tenuta oggi all'Auditorium di Santa Pollonia Firenze, nell'ambito di un ciclo di incontri, la Toscana che si muove. Le favole di Leonardo da Vinci, musica per una iniziativa a favore dei piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Mayer di Firenze. È il concerto organizzato per sabato 30 novembre, nel pomeriggio, al Teatro Verdi di Firenze, dalla Fondazione Carano for Children e dall'Orchestra Regionale Toscana. Lo spettacolo consentirà di raccogliere fondi a favore della Fondazione Mayer a supporto del progetto Play Therapy, cioè tutte le iniziative tra arte e cura che si svolgono al Mayer di Firenze, quindi dalla musica in ospedale, ai laboratori teatrali e dalla scuola alle favole. Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, tornerà a giocare fra 20 giorni dopo l'intervento perfettamente riuscito, cui si è sottoposto ieri a Firenze. Al centrale argentino, che si è infortunato domenica nei primissimi minuti della gara con il Verona dopo una gomitata di Di Carmine, è stata ridotta la frattura zigomatico orbito mascellare destra, dove fra l'altro si era infortunato già nel maggio scorso. La ripresa completa dell'attività sul campo per Pezzella è prevista tra una ventina di giorni con un'adeguata protezione. Salterà quindi sicuramente le partite contro Lecce e Torino di campionato e con il Cittadella di Coppa Italia. L'obiettivo mettersi a disposizione per la sfida con l'Inter del 15 dicembre o almeno per quella successiva al Franchi il 21 contro la Roma. Intanto oggi è arrivato dagli Stati Uniti il patron Rocco Commisso che deve affrontare una situazione complicata e piena di tensione dopo le recenti sconfitte della squadra, i fischi dei tifosi e il caso Chiesa deflagrato domenica scorsa. Due giornate di studio sulla storia della scultura della seconda metà del Novecento legata a stile tecniche per la realizzazione delle opere scultore in ferro e in bronzo. Sono in programma martedì 3 e mercoledì 4 dicembre nella sede della Fondazione Pistoia Musei in Palazzo Buontalenti a Pistoia. L'iniziativa della Fondazione Marino Marini di Pistoia nasce da un progetto dell'Università di Roma in collaborazione con l'Opificio delle Pietre Dure e la collezione Peggy Guggenheim. E siamo arrivati alle previsioni del tempo per domani in Toscana irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio più probabili sulle zone interne centro-settentrionali. I venti moderati e forti di libeccio ponente, mari agitati a nord dell'Elba e molto mossi altrove. Per quanto riguarda le temperature in lieve aumento. Per questa sera è tutto, grazie per averci seguiti e buona serata.